Stadio Omeazza di Milano, l'Italia affronti l'amichevole, l'Uruguay, penultimo test in vista di mondiale di giugno in Giappone e Corea del Sud. Tante lastenze per Trapattoni che si affida al 4-4-2 con un centrocampo inedito composto da Di Viaggio e Tacchinardi. In avanti il tandem del Piero Inzaghi. Terzo minuto di gioco, un contrasto tra Varela e Pessotto ad avere la peggio l'esterno azzurro che prende una botta al ginocchio. Pessotto schierato proprio all'ultimo da Trapattoni. Attenzione all'Uruguay con Magallanesh che ruba palla a Cannavale, fa ripartire il micidiale contropiede con O'Neal che avanza centralmente. Ancora O'Neal porta palla, poggia su Silva. Ancora O'Neal la conclusione con il destro e la risposta di Buffon. Sesto minuto ancora Uruguay in avanti, Magallanesh sulla sinistra, il cross sul secondo palle. Il colpo di testa di Varela che sveta con la palla che termina sopra la traversa. Intanto inevitabile il cambio con Adani che prende il posto di Pessotto che non ce la fa a rimanere in campo. Uruguay che insiste, decimo minuto, calcio di punizione di O'Neal. Facile l'intervento di Buffon. L'Italia prova a scuotersi il 26esimo verticalizzazione di Di Piaggio per Zambrotta che entra in aree e carica il diagonale destro. La risposta di Carini e Inzaghi che incredibilmente non trova la porta da posizione favorevolissima. La risposta dell'Uruguay con Recoba che avanza centralmente. La conclusione con il sinistro, il pallone che scheggia il palo splendida. L'esecuzione del Cino Recoba. Canizio ripresa tra pattone, rivoluzione all'attacco dentro Montella e Di Vaio ma dopo 37 secondi Varela va via Neste Panucce. Prova a incrociare con il destro. Brividi per il neo entrato Toldo. Insiste l'Uruguay, diciassettesimo Magallanesh libera al tiro dello Santos. La gran parata di Toldo che si allunga con la punta delle dita. Secondo tempo decisamente vibrante. 26esima attenzione alle contropiede dell'Italia con Gattuso che lancia Montella. L'avanza indisturbato, il pallone sul sinistro, la gran botta e la risposta decisiva di Munu appena entrato in campo. 27esimo calcio d'angolo per l'Italia. Il colpo di testa di Panucci che incrocia sul palo più lontano e insacca in rete. 1-0 per l'Italia. Seconda gol in magliazzurra per il difensore della Roma che si conferma abilissimo sui calci piazzati. Immediata la risposta dell'Uruguay. 32esimo Gigu dalla sinistra il cross e il pallone per Abreu il tocco e Toldo che smanaccia il pallone nella propria porta. 1-1 e difesa azzurra non impeccabile nella circostanza. Così come l'intervento del numero 12 dell'Italia. Non ci sta però la formazione di Trapattoni nel finale. Si riversi davanti. 43esimo. Attenzione a Di Vaglio che entra in area il sinistro e incrociare il palo. Davvero sfortunata l'Italia con la splendida azione personale di Di Vaglio. Dribbling secco e sinistro e incrociare sul palo più lontano. Termina 1-1 tra Italia e Uruguay. Un buon test per gli azzurri che ottengono così l'undicesimo risultato utile di fila. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS